e ci servono ovviamente cozze pulite di cui trovi il tutorial nel canale pane da bruschettare peperoncino aglio prezzemolo sugo olio e vino bianco si nella pentola di cui ti ho fatto vedere il video versiamo abbondante olio aglio peperoncino come sempre abbondiamo gente abbondanti abbondanti esatto facciamo imbiondire mettiamo le cozze attenzione mamma non bruciarti ti ricordo che le cozze sono pulite te lo ridico siccome abbiamo notato che stavano schizzando conviene togliere la pentola dal fuoco per evitare di bruciarti cioè spostarla nel momento in cui aggiungi le cozze e poi la rimette sul fuoco mia madre sfuma con il vino bianco ma tanto evapora si è prezzemolo questo è quello vedi congelato però è fresco contro senso però è fresco ora copriamo con il coperchio e lasciamo che le cozze si aprino dopodiché aggiungiamo il sugo e continuiamo nella cottura esatto proseguiamo la cottura e scoliamo grazie a tutti